Ancora incidenti, anziano ciclista soccorso nelle ambulanze, delitto panzieri, perizia psichiatrica per l'assassino, a Pasqua alberghi col 20% di prenotazioni in più, piano socio sanitario partito il confronto della regione coi territori, Baia Flaminia biblioteca rinnovata e unita all'oasi delle tartarughe. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV, ben ritrovati a Rossini News, ben ritrovati al telegiornale del canale 80, notiziario di giovedì 6 di aprile che apriamo con la cronaca. Purtroppo ancora incidenti stradali a Pesero, le immagini che vi mostriamo infatti arrivano da via Belgioioso in zona Pantano dove un anziano di 84 anni è stato soccorso nelle ambulanze attorno alle 12.30. L'uomo stava guidando una bicicletta trasportando barattoli di vernice e altri materiali quando, dopo l'incrocio con via Saffi, sarebbe stato urtato da una Fiat Panda guidata da una donna. L'anziano ha perso il controllo del mezzo rovinando violentemente a terra. Le sue condizioni sono parse subito gravi, tant'è che l'ambulanza intervenuta ha chiesto l'ausilio dell'elisoccorso trasportando il ferito all'ospedale Torrette di Ancona. Sul posto polizia locale e carabinieri per gli accertamenti su dinamica e responsabilità. Incidenti stradali che in città proseguono a ritmo preoccupante dopo che, ricordiamo, lo scorso giovedì ha perso la vita il 39enne peserese Alberto Gregori schiantandosi con la propria moto contro un albero in via Gagarin. E ieri invece vi abbiamo documentato il tragico incidente sul lavoro avvenuto all'azienda di verniciature polverdi Fano in cui ha perso la vita il 26enne Giacomo Cesaretti. È stata aperta un'indagine del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'azienda sanitaria territoriale per accertare la regolare messa a norma dell'impianto aziendale nella dinamica che ha portato alla morte del giovane che è rimasto agganciato a un carroponte che l'ha fatalmente schiacciato contro un muro. Si tratta del terzo incidente mortale sul lavoro registrato in provincia di Pesaro Urbino da inizio 2023. Ed ora due notizie che arrivano dai tribunali in merito a due omicidi che hanno macchiato il territorio pesarese. Partiamo da quello più recente, quello del pesarese Pierpaolo Panzieri ucciso dal reo confesso Maicol Alessandrini per il quale è stata disposta una perizia psichiatrica la prossima settimana. perizia psichiatrica. Si tratta di un passaggio fondamentale per accertare condizioni psichiche e capacità di intendere e di volere dell'omicida. Martedì 11 aprile al tribunale di Pesaro si terrà l'udienza per il conferimento dell'incarico a due periti, uno nominato per parte. Una perizia reputata necessaria in seguito ai contenuti sconclusionati e deliranti espressi da Alessandrini in sede di interrogatori che hanno portato ad accantonare presto la pista del movente passionale. Alessandrini ha più volte ripetuto di aver ucciso rispondendo a un ordine divino di Yahweh etichettando Pierpaolo come un malfattore non mostrando segni di rimorso per l'accaduto ma anzi lasciando paventare che c'erano altre due persone che a suo avviso erano meritevoli di morire. Oggi invece al tribunale di Ancona altra tappa del processo per l'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del pentito di Indranghete a Girolamo, ucciso a colpi di pistola la sera del Natale 2018 in pieno centro a Pesaro. Oggi in aula c'erano gli avvocati difensori di Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro, ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio e per i quali sono stati chiesti due ergastoli. Difesa che oggi ha presentato tabulati telefonici in cui si è cercato di dimostrare che Tripodi non poteva essere a Pesaro il giorno di Natale sulla base di uno scambio di messaggi con un amico per un presunto appuntamento natalizio a Vibo Valencia. Analisi tecnica che è stata respinta dal giudice sulla base di un solido impianto accusatorio e sul fatto che il cellulare di Tripodi fosse stato lasciato volutamente in Calabria. Si va dunque avanti col processo con rito abbreviato istruito dall'antimafia di Ancona. Ed ora lasciamo la crona che ci occupiamo dell'avvicinarsi delle festività pasquale e lo facciamo parlando di turismo. Crescono infatti i visitatori che hanno scelto Pesaro per il prossimo weekend. Le festività di Pasqua fanno ripartire gli alberghi pesaresi. A riempirli saranno soprattutto i tradizionali tornei di basket Ciao Rudy e Olimpia che al seguito delle 160 squadre giovanili partecipanti porteranno sul territorio 3-4 mila presenze assorbibili solo in parte dalla ricettività pesarese con l'organizzazione dei tornei costretta a dirottare su Gaviccia Cattolica quasi il 40% delle presenze. Non solo basket però, la categoria alberghiera registra una percentuale più alta di prenotazioni anche per quel che riguarda il turista che intende far visita alla futura capitale della cultura. Vediamo che quest'anno le prenotazioni sono tornate in maniera più importante rispetto all'anno scorso. Probabilmente le persone si organizzano anche meglio, si organizzano prima, quindi siamo sopra un 20% di prenotato rispetto all'anno precedente. Alberghi che non partono a pieno organico fra aperture rimandate e ristrutturazioni in corso. Ma siamo a circa l'80% di aperture degli hotel, quindi una buona percentuale e come dicevo prima con una offerta variegata e diversificata, quindi questo è importante. Non solo Pasqua, arrivano già indizi confortanti anche per i mesi successivi. Le persone stanno tornando a prenotare e quindi riusciamo anche a pianificare meglio la stagione ed è una stagione che speriamo sia positiva. E' partito ieri da Pesaro e da Urbino il programma di incontri divulgativi della Giunta a Quaroli con amministrazioni e sindacati in merito al nuovo piano socio-sanitario appena emanato dalla Regione Marche. Ne parliamo con Nicola Baiocchi, presidente della Commissione Sanità della Regione. Questo mese di aprile segna un altro passaggio importante di questo 2023 di riforma sanitaria. Dopo la riforma è arrivata la bozza del piano socio-sanitario ed è cominciata la fase di incontri con tutti i portatori di interesse di questo piano. Ne parliamo con il consigliere Nicola Baiocchi che è anche presidente della Commissione Sanità. Come si svilupperà il confronto che porterà all'approvazione di questo piano socio-sanitario? Sì, praticamente si svolgerà in questo modo. La Giunta, quindi il governo della Regione con il presidente e l'assessore alla Sanità andranno nei territori in tutte le province con gli stakeholders, con i sindaci, con i portatori di interesse a presentare questo progetto, questa bozza come tu hai correttamente detto, dove ci sono le linee guida, un progetto di indirizzo per la nuova sanità. Dopo la riforma dell'organizzazione adesso arriviamo al progetto di piano socio-sanitario. Poi ci sarà ancora qualche settimana di questi passaggi al fine di creare il maggior consenso possibile e naturalmente un progetto aperto a modifiche e correzioni se fosse necessario. E poi arriverà, dopo l'approvazione in Giunta, arriverà nella mia commissione dove ricominceremo un nuovo lavoro di concertazione con i territori, con i portatori di interesse per rendere questo progetto il più condivisibile possibile che va in direzioni molto importanti legate alla grande lotta alla mobilità passiva, alle liste d'attesa, all'implementazione delle reti cliniche, in generale non posso chiaramente dirti tutti i punti di 200 pagine di piano e andrà in direzione molto chiara anche in ordine al DM77, quindi case di comunità, ospedali di comunità, ecote, quindi una sanità territoriale molto più vicina ai cittadini per cercare di correggere quegli errori, quelle strutture della passata sanità. Gli interlocutori in questo momento sono le amministrazioni, i sindacati e le unità ospedaliere? Assolutamente sì, poi si farà tutto, ci sarà il Comitato dei Sindaci, ci sarà veramente un lavoro molto ampio nel territorio, anche nel terreno della mia commissione che è aperta praticamente a tutti, a suggerimenti, a correzioni e integrazioni, non è un piano chiuso, è un piano che se ci fosse la necessità di modificare, correggere o migliorare siamo assolutamente pronti. E continuano a moltiplicarsi i luoghi della cultura ripensati e riqualificati in vista di Pesaro 2024. Oggi ad esempio è stato presentato il piano di interventi che unisce in un unico percorso la rinnovata biblioteca di Baia Flaminia intitolata Louis Braille con la vicina Oasi delle Tartarughe del Lido Pavarotti. Ci troviamo oggi alla biblioteca Braille, la biblioteca di Baia Flaminia, uno dei tanti luoghi che in questo 2023 vengono ripensati, rinnovati, in vista di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Biblioteca che ha un rinnovamento strettamente legato alla specificità di questo luogo, quello di Baia Flaminia, quello della Oasi delle Tartarughe che è nata a partire dal 2019 in questa zona della città. Un progetto di rinnovamento che è stato presentato oggi dal comune di Pesaro, dalla biblioteca, dal quartiere di Soria, dal parco San Bartolo, dalla guardia costiera e dalla stessa fondazione Cetacea. La struttura è stata rinnovata, abbiamo cercato anche di lavorare sulla sostenibilità mettendo appunto la parete ventilata e poi ci sono arrivate le tartarughe e da lì siamo partiti. Abbiamo fatto un investimento ovviamente comprando i libri per i bambini, facendo dei percorsi con le scuole, allestendo una sala del viaggiatore dove accogliamo i turisti pesaresi che vuol venire per scoprire, per leggere i libri sulla natura, i libri sul mare, i libri sull'ambiente, sulle tartarughe e poi da qui trova anche il percorso già segnalato nella piazza per arrivare all'Ido Pavarotti dove appunto la famosa tartaruga ci ha dato il segnale che era arrivata. La visione d'insieme che inizia con il cappotto esterno fatto da materiale che c'è anche familiare, ceramica in ipergress, quindi anche per motivi di contenimento della dispersione di calore e proseguita poi con gli spazi interni riqualificati a partire dalla sala del viaggiatore che è una sala dedicata all'inclusione, dedicata agli spazi, dedicata alla comunicazione aumentativa anche negli strumenti digitali e più in generale tutta la sala interna con gli apparati audio-video e anche i libri tattili che permettono appunto la frequentazione dei contenuti diciamo a 360 gradi per tutti e tutti insieme. Il lavoro di segnaletica che mancava alla biblioteca nel senso che non era indicata esternamente, in realtà abbiamo approfittato per indicare la biblioteca Braille, per indicare anche i contenuti, per indicare anche questo legame con la fondazione Cetacea, e il progetto delle tartarughe legato a quanto accaduto nel 2019 con la schiusa delle uova, quindi mi ha fatto un po' di storia ma anche un po' di presente perché racconta anche l'attività che è assieme alla fondazione sulla cultura del mare, innanzitutto ancora prima che della tartaruga. Tanti elementi di rinnovamento alla biblioteca all'interno con un filo conduttore dedicato alle tartarughe, alla natura, al tema del viaggio, tanti elementi nuovi anche all'esterno, a cominciare da un gazebo per le attività in questa piazzale Europa, piazzale in cui ci sono anche diverse nuove segnaletiche che fanno da filo conduttore, da ponte con l'oasi delle tartarughe nel Lido Pavarotti, e poi c'è la tenda che vedete alle mie spalle, la tenda della fondazione Cetacea, una sorta di laboratorio mobile che verrà piazzato in piazzale Europa per quello che riguarda la stagione invernale e verrà spostato in spiaggia da maggio a settembre. Fondazione Cetacea ormai da tre anni, dal fattivico luglio del 30 luglio del 2019, ormai quest'anno e quarto anno, sta facendo un'attività a Pesaro che è un'attività molto visibile da una parte ma anche molto importante perché noi cerchiamo di riabilitare alla vita marina animali che sono stati curati a lungo in uno spazio chiuso. Quindi la caletta di Pesaro ha questo grande pregio di mettere a disposizione al centro ricerca tartarughe marine di Riccione, centro ricupero di tartarughe marine, uno spazio in cui verificare se c'è la possibilità di rimettere in mare questi animali. È una cosa che è l'unica in Italia, siamo molto grati al comune di Pesaro di averci seguito in questa avventura che è sicuramente un'avventura azzardata per alcuni aspetti, però è unica in Italia. La provincia di Pesaro Urbino piange la scomparsa della professoressa Katia Migliori, docente dell'Università di Urbino, scrittrice, saggista e collaboratrice di Passaggi Festival. La donna è morta all'età di 73 anni, si è spenta all'ospedale Santa Croce di Fano dove era ricoverata dalla scorsa settimana in seguito ad un ictus. Domani, venerdì 7 aprile, alle 10.30, si terranno i funerali al cimitero dell'Ulivo di Fano. Ci spostiamo a Montecchio, dove si stanno completando i lavori della costruzione della nuova piazza attigua al municipio di Vallefoglia, inaugurato lo scorso gennaio. Operai al lavoro per ultimare la pavimentazione ingress porcellanato, dopodiché si procederà all'installazione dei nuovi pali dell'illuminazione di panchine e della attivazione della fontana centrale. Entrano nella fase più solenne le celebrazioni pasquali nel Duomo di Pesaro. Domani, venerdì santo, alle ore 18, ci sarà la celebrazione della Passione del Signore presieduta dall'Arcivescovo Sandro Salvucci. Sabato alle 22 la messa di Veglia Pasquale, mentre domenica 9 aprile la Santa Messa Solenne di Pasqua si terrà alle 11.30 ancora presieduta dall'Arcivescovo. Dopo Pasqua, il 13 aprile, alle ore 18.30 a Villa Borromeo, si terrà invece la presentazione del libro Opzione Francesco di Armando Matteo alla presenza dello stesso Vescovo e del professor Don Mario Florio. Ed uno degli appuntamenti più solenni e spettacolari del venerdì santo di Pasqua di domani si terrà a Cantiano con la rievocazione della turba. Dopo la pandemia e le immense criticità derivate dall'alluvione, Cantiano è pronta ad organizzare la turba il prossimo 7 aprile, venerdì santo, in cui alle pendici del Catria si tornerà a rievocare dopo tre anni la sacra rappresentazione della passione, morte e resurrezione di Cristo nella sua forma tradizionale di teatro religioso popolare. Un evento che è stato presentato oggi nella sede di Confcommercio Marche Nord, alleato promozionale di un borgo di Cantiano che si presenterà trasformato alla vigilia della Pasqua. Nei giardini pubblici verrà infatti allestito il Cenacolo, in Piazza Luceoli verranno innalzate le imponenti scenografie che rappresentano il Tempio dei Sacerdoti, il Pretorio Romano e la Regia di Erode dove centinaia di persone interpreteranno le scene del processo e della condanna. E poi la salita al Golgotha sulle colline sopra il paese e l'epilogo scandito da una processione di più di 250 figuranti illuminati da centinaia di torce che rischiareranno il buio della notte fino all'annuncio della resurrezione. Dopo tre anni di stop causa Covid la comunità cantianese nuovamente colpita da un altro evento eccezionale che è l'alluvione del 15 settembre vuole ripartire con un messaggio ecco di fiducia e di speranza e di graduale ritorno alla normalità. La turba è la nostra espressione identitaria e quindi abbiamo voluto seppur sembri paradossale in un momento in cui il paese è ancora ferito in cui la conta dei danni è milionaria mettere in scena questo nostro evento ecco che ripeto essere un evento identitario che riguarda l'orgoglio di una comunità che ritrova la sua socialità è un messaggio di speranza legato alla Pasqua quindi un messaggio di ripartenza necessaria un paese che è ancora ferite aperte ma che ha tanta voglia di rimettersi in gioco e di guardare con ottimismo un graduale ritorno al futuro. Siamo invece onorati di sostenere lo sforzo dell'intera comunità e dell'amministrazione comunale dei cittadini di Cantiano per la ripartenza la rinascita del comune ovviamente la si deve alle infrastrutture che debbono essere ripristinate alle case alle attività economiche ma anche alla voglia di guardare al futuro con le varie manifestazioni turistiche le varie manifestazioni culturali che negli anni hanno fatto l'importanza della comunità di Cantiano in questo caso la turba è un evento di straordinaria importanza anche dal punto di vista turistico e per questo insomma la Confcommercio dopo anche la raccolta di fondi che abbiamo fatto a sostegno del comune non potevamo che essere al loro fianco per sostenere questa iniziativa. E concludiamo il telegiornale parlando anche di iniziative pasquali dedicate ai bambini da questa mattina infatti al parco Scarpellini di Pesero è partita l'attività ludico-motoria della caccia alle uova. Questa è la terza edizione che facciamo e le svolgiamo appunto nelle mattinate delle vacanze pasquali il giovedì, il venerdì e poi finiamo con martedì 11 e facciamo tutta la mattinata con tutti i bambini e qua la Scarpellini e i più piccolini della materna invece li accoglie il Salice Gualdoni in cerco cortulare. E come si svolgono queste giornate? Allora facciamo delle attività motorie perché è il nostro obiettivo finale dell'associazione e coinvolgiamo i bambini in diverse iniziative di laboratorio oltre che di sport e framezziamo queste attività con la caccia alle uova che è chiaramente ciò che porta il bambino qua effettivamente e riusciamo così anche ad aiutare le famiglie che in questo periodo qua di vacanze non hanno magari dove sistemare tutti i bambini. Il nostro impegno è questo è anche sociale oltre che chiaramente sportivo e mira appunto a far sì che i bambini vivano sempre comunque di sport e di socialità. E quali sono in specifico le attività che svolgete anche motorie? Allora le attività che svolgeremo oggi in questa giornata qua saremo principalmente quelle che il parco ci consente quindi attività faremo dei dei mini circuiti in modo che attiviamo per i più piccoli le capacità motorie di base che in questi periodi qua insomma visto e considerato quello che abbiamo passato è veramente estremamente importante poi ci dedicheremo alle staffette e alla corsa cose molto semplici quello che normalmente un bambino deve fare in un parco senza attività proprio di quelle tipiche come pallavolo calcio quelle lasciamo a tutte le realtà sportive del quartiere che comunque sempre durante l'anno ci aiutano e ci sostengono. si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma fra poco alle 21.20 vi ricordiamo l'appuntamento come sempre in diretta da non perdere con insieme a canestro appuntamento fisso del giovedì sera nel salotto del nostro Marco Cadedu per parlare di basket per parlare della Carpegna Prosciutto Basket questa sera lo faremo con ospiti in studio il presidente del consorzio Pesaro Basket Franco Arceci e l'ex giocatore della VL Michele Maggioli come sempre lo faremo anche grazie alle vostre domande e interazioni in diretta al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 ed è davvero tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi auguro